Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del soffiatore a batteria Black Decker BCBL200 e ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il soffiatore a batteria Black Decker BCBL200 è uno strumento progettato per la pulizia di spazi esterni, fornendo un valido supporto nelle attività di manutenzione quotidiana. Grazie al sistema assiale, il soffiatore è in grado di generare un flusso d'aria che raggiunge fino a 578 metri cubi orari, permettendo di spostare facilmente foglie secche, piccoli detriti e polvere da diverse superfici. Questo sistema consente un'azione costante e uniforme, ottimizzando i tempi di lavoro e garantendo una pulizia efficace anche su superfici irregolari o non perfettamente lisce, come marciapiedi, garage, aiuole e vicoli. Il modello viene fornito completo di una batteria a litio da 18 volte e 2 ampere, inclusa, che elimina la necessità di utilizzare cavi durante il lavoro, garantendo una maggiore libertà di movimento. Questa caratteristica rende il soffiatore adatto a essere utilizzato in una varietà di ambienti esterni, con la possibilità di muoversi agevolmente senza vincoli. Con un peso di 2,1 kg, comprensivo della batteria, l'utilizzo dello strumento risulta pratico e confortevole anche per sessioni di lavoro prolungate. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.